la pulizia dei dischi con metodo ad ultrasuoni è solo uno di quelli disponibili ed è considerato tra i più validi per efficace sicurezza consente di utilizzare onde sonore ad alta frequenza capaci di muovere acqua distillata così da produrre minuscole bolle di cavitazione che aiutano a rimuovere lo sporco più ostinato senza alcun contatto fisico con il vinile quindi non dovendo più ricorrere a spazzole panni microfibra ed altri supporti meccanici che devono sempre essere utilizzati sul microsolco con estrema attenzione e delicatezza il metodo a lungo utilizzato nell'industria dei gioielli è adesso sfruttato anche per la pulizia di dischi ma il problema del costo elevato dei dispositivi che servono ad effettuare il lavoro amming guru macchina lavati dischi ad ultrasuoni prodotta dalla cinese happy well con sede ad hong kong è una soluzione molto interessante perché rispetto ad altre sul mercato ha un prezzo più accessibile ed offre una serie di funzioni automatiche molto interessanti anche per l'asciugatura dei dischi vediamo insieme le caratteristiche principali del nuovo modello in nostro possesso quello in versione bundle con un unboxing dettagliato e un test diretto delle sue funzioni inclusa una prova d'ascolto le due ante laterali della scatola sono personalizzate con l'hashtag amminguru e c'è da dire che tutto il layout del prodotto è pensato con un'ottima attenzione allo stile la prima cosa che tiriamo fuori è una boccetta di tensio attivo che può essere utilizzato in aggiunta all'acqua distillata quest'ultima è sufficiente a far funzionare la macchina ma il tensio attivo consente di ottenere i risultati superiori questo è uno set di ricambi per il filtro dell'aria lo strumento di manutenzione è un tool che serve a sostituire parti meccaniche difettose oppure usurate all'interno della macchina stessa l'alimentazione del dispositivo occupa due scatole una per il cavo di alimentazione di tipo tedesco l'altra per l'alimentatore a 12 volt molto simile a quello utilizzato per alcuni computer portatili il kit di ricambio contiene due paia di rotelle usate per far girare il disco e i filtri per separare l'acqua dalle impurità questi sono due adattatori per lavare i dischi 7 e 10 pollici ed infine ecco la macchina lavadischi protesta dal nylon con un'avvertenza facilmente leggibile che già ci suggerisce come versare l'acqua distillata all'interno della vasca principale la amminguru è protetta da un coperchio in plastica dura e al momento della spedizione da un imballo interno che protegge la parte più delicata dai eventuali urti durante il viaggio ecco il filtro interno della macchina rimovibile con lo strumento di manutenzione una delle rotelle che consentono la rotazione del disco questo è il serbatoio estraibile dal fianco della macchina che servirà a gestire il liquido di pulizia è costituito da un coperchio e da un filtro assicurato ad un supporto rimovibile filtro che può essere sostituito per usura o per altri motivi la misurazione millimetri sul serbatoio ci dice che non possiamo mettere più di 400 millilitri di acqua e ci indica i limiti per i 12 pollici e i 7 pollici i due adattatori per 7 e 10 pollici sono forniti nella versione bundle con dei fermi in gomma che servono ad assicurare i supporti agli adattatori stessi lo strumento di manutenzione che vediamo in dettaglio ha un'estremità tipo chiave che consente l'estrazione di filtro e rotelle e anche una guida di misurazione per sincerarsi in modo più accurato del livello dell'acqua la boccetta di tensio attivo è di 30 millilitri va usata in quantità di due massimo tre gocce ogni 400 millilitri di acqua distillata e dura almeno per 800 vinili il tensio attivo rompe la superficie dell'acqua distillata e consente una maggior penetrazione nei microsolchi qui abbiamo un vinile tempestato di muffa sedimentata fino addirittura alla zona della deadwax che non si toglie con le normali spazzole in fibra di carbonio lo inquadriamo sovraesposto per farvi vedere la formazione di muffa in modo chiaro il pannello laterale include il pulsante di alimentazione e un selettore per decidere se l'asciugatura avrà in 5 oppure in 10 minuti e il plug per l'alimentazione estraiamo il serbatoio dell'acqua e versiamo l'acqua distillata necessaria per lavare un 12 pollici nel primo tentativo che stiamo guardando adesso abbiamo seguito le indicazioni del serbatoio quindi ci siamo attenuti a 350 millilitri circa aggiungiamo le due gocce di tensio attivo il liquido si versa nella parte centrale della vasca cercando di non andare troppo verso i margini fatelo con il coperchio del serbatoio chiuso per evitare sversamenti eccessivi vi ricordiamo che l'acqua secondo il produttore può essere riutilizzata per 4 o 5 lavaggi successivi perché viene filtrata dal filtro interno e da quello del serbatoio l'inserimento del disco è facilissimo basta appoggiarlo delicatamente nella fessura della vasca possiamo cominciare con la pulizia premendo il tasto clean due volte le due tacche illuminate indicano che la pulizia durerà 5 minuti se volete farla durare 2 minuti basta una sola pressione occorre poi premere il pulsante centrale per far partire il ciclo finito il ciclo il pulsante centrale mette una luce fissa e va ripremuto prima di premere il pulsante di asciugatura che è preprogrammato a 10 minuti premiamo il pulsante centrale per farlo partire come vedete prima che il ciclo di asciugatura parta Minguru scarica l'acqua in automatico nel serbatoio inserito lateralmente il processo di asciugatura partirà in automatico a fine scarico il processo di asciugatura avviene quindi in questo caso in 10 minuti sempre nella stessa vasca togliamo il disco e vediamo sovraesponendo che è completamente pulito tranne l'area deadwalks che ancora presenta traccia di muffa questo perché i 350 millilitri sono un limite di sicurezza per non rischiare di bagnare l'etichetta noi abbiamo provato a forzare la mano lavando successivamente il disco con 390 millilitri di acqua circa e ha pulito anche l'area deadwalks senza bagnare l'etichetta inserito Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il filtro dell'aria si trova in un lato inferiore della macchina ed è facilmente estraibile così come il filtro che è sostituibile. Grazie a tutti. In alcuni aspetti fondamentali nel diagramma il tratteggio rosso indica la posizione dell'etichetta di un 7 pollici, quella bianca la posizione per 10 e 12 pollici. Il diagramma serve a capire quali siano i limiti da rispettare per il livello dell'acqua. Nel nostro caso, molto raro, la deadwalks era piena di muffa e abbiamo aumentato il livello dell'acqua appena appena sotto i 400 millilitri. L'etichetta non si è bagnata e l'area deadwalks è stata pulita completamente. Ricordati di iscriverti al nostro canale per rimanere aggiornato sui nuovi tutorial e le nuove recensioni. Grazie. Grazie.